Con il maestro Davide Salvi facciamo un'altra gita nel mondo della musica, intanto maestro grazie di essere con noi, state facendo una cosa bellissima in un giorno di festa, quindi doppiamente grazie. Allora, da Assisi facciamo un po' più di strada, oggi è tutta così la puntata, e arriviamo nel meraviglioso Appennino Bolognese, dico bene, dove esattamente? Bologna e provincia esattamente, vicino a Porretta Terme. Porretta Terme, sono una bolognese d'adozione, Porretta Terme, è un posto meraviglioso. Dunque, questo il maestro Davide Salvi, e questo un po' si è capito, lei suona la fisarmonica in ragione di un amore che scoppia e nasce quando era bambino? Guarda, in realtà è stata una cosa quasi assurda perché nella mia famiglia non c'è nessun musicista, che si sappia. Che si sappia? Che si sappia. Musicisti clandestini, no, che si sappia, nessun musicista. Non c'è nessuno. No, io da piccolo, all'età di 6-7 anni, andai nel sottotetto di casa e trovai un vecchio giradischi. Sì? Sì. Guardatelo qua. E niente, praticamente passavo le mie giornate ad ascoltare questi dischi di fisarmonicisti famosi e da lì mi è scoppiata la passione per la fisarmonica. Perché la fisarmonica suona in tutto il mondo, per carità, potremmo fare un viaggio lì, sarebbe un viaggio lunghissimo. Però la fisarmonica in Emilia Romagna è un elemento... È lo strumento principe. Non solo lì, però strumento principe, strumento fondamentale. Allora, i genitori non saranno stati musicisti, però papà e mamma in balera è un must da quelle parti, è un obbligo. Assolutamente, assolutamente, anche perché nella mia zona era il luogo dove c'era la più grande concentrazione di balera, comunque, sia l'Emilia che la Romagna. Del chi? Guardali là, quanto sono belli. E balla oggi, balla domani. Ma questi, questi papà e mamma... Ci diamo del tuo maestro, possiamo? Certo, certamente. Quando è che tu diventi musicista e ti viene in mente di... All'età di 14 anni. All'età di 14 anni ho formato la mia prima formazione musicale, che era un duo. E poi dopo, nel corso degli anni, è diventato trio, quartetto, quintetto, fino a oggi, che è un'orchestra di otto elementi. Otto elementi, per ora ti sei fermato? Sono fermato. Chi lo sa? Senti, ma il papà e la mamma, gli amici, le persone del condominio, quelle che andavano a ballare, vanno a ballare e continueranno a ballare, a vedere sto ragazzino che veniva su con la sua fisarmonica, bello, abbiamo visto la fotografia. Insomma, sono stati orgogliosi tutti. Sì, diciamo che erano orgogliosi sicuramente di questa cosa. E devo dire che i miei genitori non mi hanno mai spinto a suonare la fisarmonica. È una cosa che ho avuto io e l'ho sempre coltivata. E sono riuscito nel corso del tempo a fare di una passione un lavoro. A fare di una passione un lavoro. Per cui, attenzione, signori, un lavoro svolto con il massimo della professionalità. Perché grazie a voi, noi, in pista, che sappiamo ballare o non sappiamo ballare, vale per me, ci divertiamo. Però voi siete lì per ore e ore e ore, anche con un controllo del pubblico, di che cosa possano gradire di più, di che cosa possa essere maggiormente richiesto. Assolutamente, devo dire che il gusto delle persone poi cambia, la musica cambia nel corso degli anni. E noi ci esibiamo un po' in tutte le piazze del centro e nord Italia. Incontriamo diversi gusti, diversi stili e cerchiamo sempre da contentare il pubblico. Il nostro lavoro è far divertire. Il vostro lavoro è far divertire. Noi vogliamo salutare e ricordare un carissimo amico dell'Ora Solare, che è amico del maestro, che è Mirko Casadei, al quale mandiamo gli auguri di buona Pasquetta. Allora, voi siete impegnati con Mirko Casadei perché il liscio venga riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ed è una cosa giustissima. Assolutamente sì, anche perché il liscio è anche aggregazione. L'abbraccio è una cosa importantissima, spesso oggi manca l'abbraccio. Il liscio è abbraccio, alla fine. Stiamo lavorando a questo progetto, ci crediamo molto, ci crediamo molto anche perché sono nelle nostre radici. Il liscio nasce nelle aie. La fisarmonica è uno strumento che veniva usato nelle aie, c'era soltanto una fisarmonica che faceva ballare tutti. Fisarmonica, sax e clarinetto, ma la fisarmonica è lo strumento principe anche perché comunque con la fisarmonica si suona tutto. È uno strumento completo. Maestro, è lo strumento che respira. Assolutamente. La fisarmonica ha un che di, non so come dire, un che di umano. Il mantice è l'anima proprio di questo strumento. Esatto, si vola. Io prima ti guardavo, cioè si vola. Noi che non sapremmo mai suonare la fisarmonica, però ammiriamo anche il momento in cui la fisarmonica ci permette di passare ore liete. Suonare in piazza, non oso chiedervi che calendario abbiate. A Pasquetta vi capita, vi è capitato? Assolutamente, suoniamo sempre a Pasquetta e quindi è una giornata che, come posso dire, le persone, la gente va volentieri a ballare, vanno volentieri a ballare perché comunque è giorno di festa e quindi il liscio è festa. Il liscio è festa. Allora maestro, noi vi aspettiamo tra un attimo, perché insomma tra un attimo siamo in vostra compagnia, anche perché non abbiamo ancora sentito la voce di Francesca Messina, ma sta arrivando.